Un'emozione indescrivibile, soprattutto poi ripensando a quello che era per me mio nonno Carmine, era un tifoso giuventino spiegatato. Appena segnato il gol ho pensato subito a lui, penso che chissà cosa mi avrebbe detto, probabilmente mi avrebbe insultato perché era spiegatato. Il mio mentor è stato quello che ci ha credito per primo, quando magari gli altri neanche si accorgevano che stavo giocando, insomma. Sì, beh, quando ero piccolo diciamo che racconto spesso che invece da sognare e fare solo quello, non correre zero, stare in porta zero, quindi è un qualcosa che diciamo mi è rimasto dentro. Il mister Donisi mi chiede soprattutto di difendere perché comunque abbiamo una squadra che davanti ha moltissima qualità, abbiamo sicuramente degli attaccanti formidabili e quindi serve insomma qualcuno che ti dia un po' di equilibrio e che corre anche per loro giustamente, perché poi se ti fanno vincere i partiti lo fai anche molto più volentieri. Gianluca è l'attaccante dell'italiano più forte, ma sarà che io sono un po' di parte perché siamo amici da tanto tempo, però le qualità che vedo in lui non le vedo in altri. Io spesso lo rimprovero perché gli dico che non è cattivo. Lui potrebbe segnare veramente un gol a partita se solo lo volesse, ma anche lui deve lavorare su degli aspetti, è sicuramente quello caratteriale, però sono sicuro che sarà l'attaccante della nazionale per parecchio tempo. Ciao!